A Giarra ieri nuovo vertice di maggioranza dentro Città Viva si sta provando a definire nuove strategie per l'immediato futuro. Il sindaco Angelo Danna e gli alleati ha spiegato che una volta che saranno risolte le emergenze più incombenti come gli scarichi e il bilancio bisognerà attuare concretamente il programma elettorale e aprire in vista del secondo anno di amministrazione una nuova fase. L'obiettivo di Angelo Danna ma anche del segretario politico Sara Giuffrida sarà quello di mantenere vivo il movimento provando a coinvolgere tutti i simpatizzanti. Intanto si aspetta la convocazione del nuovo consiglio comunale e quindi della conferenza dei capigruppo e in questo senso entro questa settimana si attendono novità.